Buonasera e benvenuti a Sport Sicilia Buonasera e benvenuti a tutti Lo descrivono come un allenatore molto severo Una sorta di sergente di ferro Io ieri sulla Sicilia presentandolo L'ho accostato forse in maniera riverente a Mihailovic Però siamo su quella scia lì Il Catania si è dotato di un motivatore Di un allenatore che comunque a parte la tattica Deve anche tenere lo spogliatore ad altissimi giri Per arrivare a Peleoff in un certo modo A supporto di questo ci sono state anche le parole di Lomonaco Molto dure nei confronti della squadra Lo sentiremo tra poco Ecco Ha detto tolgo gli alibi Questo è l'ultimo alibi Lo tolgo ai giocatori Perché da qui a Peleoff Noi dobbiamo arrivarci senza poi fare Pura presenza Ma vogliamo giocarci le carte fino in fondo Direi che L'operazione tecnico Che a questo punto purtroppo era necessaria Visto come si era inclinato un po' il rapporto con la piazza E i risultati fuori casa E aspettavi che sono di Ricoli? Sì, io l'avevo ipotizzato anche dopo il 4-0 Subito a Castellammare di Stabia Perché qualcosa comunque non funzionava Soprattutto in trasferta Però erroneamente avevo valutato La vittoria col Matera in casa Come una sorta di rincorsa Che era già stata presa Una strada alla quale il Catania Poteva anche non discostarsi più E invece Agrigento ha fatto ripiombare Un po' tifosi Ambiente Una sorta di porti Adesso è chiaro che il cambio dell'allenatore È un altro tentativo Che fa la dirigenza Per non lasciare niente al caso E cercare un po' di Ripeto di arrivare sempre in prospettiva Parlo di arrivare ai playoff E disputarli In un certo modo Ma partendo da una posizione Che non è la decima ovviamente Ha parlato di sesto posto Pietro Lomon Noi andiamo a sentire proprio l'intervista Rilasciata da Pietro Lomon Questa mattina al termine della conferenza stampa Ad Angelo Gagliano Poi la commentiamo insieme Noi l'abbiamo detto a più riprese Lo rimarchiamo con più forza Oggi Non lasceremo niente di intentato Per il raggiungimento del nostro obiettivo Vogliamo arrivare ai playoff Vogliamo arrivarci possibilmente Per giocarceli E non per partecipare solamente Lei aveva pensato già a mister Petrone Ad inizio stagione In qualche modo È un tecnico che stima No Noi abbiamo All'inizio Quando è stata fatta la scelta dell'allenatore Chiaramente Abbiamo valutato due o tre Alternative Due o tre proposte E fra queste c'era anche Mister Petrone Il fatto che lui Ripeto In virtù di questa coincidenza Perché Quando sono un allenatore Secondo me È sempre una coincidenza Negativa ma È una coincidenza Il fatto di averlo trovato libero Diciamo che Ha confortato Quello che era la nostra decisione Di affidargli La nostra squadra Lei ha detto Paga l'allenatore Ma è da retarguire Tutta la squadra Per il terreno perduto Troppi punti sprecati Assolutamente sì Con questo gesto Abbiamo voluto levare L'ultimo alibi Qualora ce ne fosse Ancora Ai calciatori In campo vanno loro Loro sono un organico importante E devono giocare Da organico importante Chiaramente Prestazioni come quelle di domenica Vorremmo non vederle più Prestazioni come quelle di domenica Stento a A dare delle colpe al tecnico Ripeto Io in campo ci vanno i calciatori Quando sei forte Quando sei Squadra di livello Lo devi dimostrare in campo La domenica A 13 turni Dalla fine Della regular season Questa scelta È traumatica Comunque Per il vostro progetto Quando si cambia Un allenatore Vuol dire che In qualche modo Hai delle colpe Non vuol dire Che in qualche modo Hai sbagliato Vuol dire che In qualche modo Le cose non sono andate Per come Per come ti eri immaginato Non Io Da sempre Odio cambiare Il tecnico Perché vuol dire che Se lo cambi Vuol dire che Qualcosa Non hai Considerato Al momento Di prenderlo Però Questa occasione qua Mi piace Vederla Sotto un altro aspetto Come dicevo prima È la volontà Da parte Della società Nostra Di Eliminare L'ultimo alibi Sensibilizzare Responsabilizzare La squadra Perché È una squadra Che Ha una propria forza E deve giocare Da squadra forte Realisticamente Prima Di domenica sera Non avete mai Pensato A un cambio Di guida tecnica No No Però è chiaro Che Si fanno Delle considerazioni Se il Catani Ha perso Cinque partite Li ha perse Contro avversari Non certamente Di grido E li ha persi Anche abbastanza In malo modo No Eh Beh Queste sono considerazioni Che devi necessariamente Fare Poi stando Tutto Il tempo A seguire Il lavoro Che si svolge Inevitabilmente Eh Hai momenti Di confronto E hai momenti Di Che fai Determinate Considerazioni Quindi Il cambio È un tentativo Per ridare Impulso A una squadra Che Incappata Troppo spesso In episodi Come quello Di Agrigento Direttore Da qui Alla fine Della stagione Allora Primo obiettivo Sesto posto E poi Playoff Tutto gas Sì L'obiettivo È quello Quello Di Entrarci dentro Possibilmente Occupando Una posizione Di 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 favore Il sesto posto Potrebbe essere Sicuramente Una Una posizione Importante Ci darebbe modo Di giocare La prima partita Con la settima In classifica In casa nostra Partita secca E quindi Questo può essere Sicuramente Un obiettivo Alla nostra portata Abbiamo il dovere Di fare di tutto E di più Per poterlo raggiungere Poi dopo Ripeto Come dicevo prima Playoff Per giocarceli Non per partecipare E allora Giovanni Mi soffermere se Un paio di passaggi Di questa intervista Allo Monoco Innanzitutto Il passaggio Nel quale Dice Abbiamo scelto I cambialletori Per togliere Alibi alla squadra Che è una Qualche forma Anche di responsabilità A questo punto Della squadra stessa Questo punto del campionato È successo un po' Anche l'anno scorso Con il cambio Pancaro-Moriero È chiaro che È giusto come dice L'Omono I giocatori vanno in campo E determinano La trama di una partita Ma è anche vero Io l'ho sottolineato Lunedì in maniera Traumatica Sulla Sicilia Che le colpe Vanno sempre Suddivise In parti uguali È chiaro che Con un organico Di questo Spessore Alcuni incidenti Di percorso Che poi si sono sommati E quindi non sono più Incidenti di percorso Lanciano questo Campanello d'allarme Perché il Catania Contro le squadre Alla portata Rallenta Stenta Soprattutto fuori casa L'Omono ha parlato Dei sei punti Ceduti all'Agragas Fai andata e ritorno Anche se all'andata Andò come andò Tre virgolette La sconfitta Con il Francavilla Ma è chiaro che Il Catania È in genito Sì ci sono anche Altri episodi L'Omono ha Comunque dato i meriti Ha fatto questo distingo All'Agragas Perché sennò Sembra che poi Per carità Onore al merito L'Agragas Perché una squadra Che subisce l'1-0 Rischia di capitolare ancora E poi Gradualmente cresce Evidentemente un valore Quanto meno Di cuore ce l'ha Non dico tecnico Tattico Ma anche quello Perché altrimenti La partita Non si sarebbe Incanalata Su quei binari lì È chiaro che Ci sono stati anche Degli altri incidenti Di percorso L'1-1 A Reggio Calabria La mancata vittoria A Taranto Poi c'è anche Ange Insomma Durante il campionato Per carità Ci sono sempre Dei momenti In cui la squadra rallenta È sfortunata Sbaglia È normale Che qualcosa per strada Qualche rammatico per strada Lo lasci sempre Lo lasci sempre Però Questo continua a ripetersi Fuori casa Lo dico sempre Da anni Il Catania Fuori casa Rallenta Il tratto comune Resta quello E dico anche Visto che c'è questo obiettivo Di cominciare Il playoff Con una partita secca Sesta contro settima Non si può andare In caso fuori casa Ad offrire una prestazione Del genere Quindi anche Questa mossa Della società È stata fatta In prospettiva Per dare più solidità A livello Aumentare a questo gruppo L'omonaco Che tra l'altro Ha detto anche Che il mercato è chiuso Non ci saranno Arrivi disvincolati Quindi ricombriamo Il campo da queste ipotesi Ha detto anche Che tra l'altro Piccolo inciso È stato fatto Un intervento Sul terreno di gioco Del Massimino Che in condizioni precarie Quindi ci si aspettano Miglioramenti a breve E ha parlato E ha parlato di obiettivo Sesto posto Obiettivo sesto posto Le prime quattro Sappiamo che Stanno andando Piuttosto forti Anche se ultimamente I passi falsi Li invetta Non sono mancati Esatto Però hanno camminato A regimi sostenuti Per un bel pezzo di campionato Hanno un certo vantaggio E poi c'è anche Il Fianca Villa Che sta sorprendendo Grande vittoria a Matera Matricola terribile Un classico In questi casi Ti sembra realisticamente L'obiettivo Più alla portata del Catania A questo punto Il sesto posto? In questo momento sì Perché teniamo conto Che il Catania Ha 13 partite Ma 7 fuori casa Messina Lecce Caserta Credo anche Pagani Sì E 6 partite in casa Ora al di là del campionato Casa e fuori casa Anche se fuori casa Bisogna fino a questo momento Fare di distinguo L'obiettivo Sesto posto Come diceva benissimo Il direttore del Catania Dà la possibilità Ai Rosso Azzurri Di fare Partita secca sì Ma di affrontarla in casa Gli dà un buon primo turno Di playoff E se al massimino Il Catania Si trasforma in positivo Probabilmente cominciare così Può dare alla squadra Uno slancio diverso E allora andiamo